Quarta corsa, una prova per tre anni, non vincitori di 5.000 euro nella carriera. Sono in 11 alla via di una prova molto molto aperta, con tanti cavalli che si possono giocare la vittoria. Uno Cowgirl Digil Setz, due Cleo Wald, tre Cloe Jet, quattro Condor Bocino, cinque Corsa del Nord, sei Country Matley. In seconda fila, sette Carioca Laksmi, otto Califo Griff, nove Chubu dei Greppi, dieci Chames dei Greppi, undici It's My Life S. I cavalli vanno dietro la macchina, fila già raccolti sulla piegata di sinistra. Sono tutti ben allineati e pronti a far partenza. Autostart entra addirittura, accelera. E si parte con veloci Condor Bocino e Corsa del Nord. Condor Bocino che difende la posizione da Corsa del Nord che cerca di insistere per un attimo a largo. Poi c'è ovviamente tanto posto per parcheggiare alla corda. Marco Volpato si sistema secondo. In terza posizione Cleo Wald, anzi Cloe Jet, che viene scavalcata però da It's My Life. I primi duecentometri corsi in quattordici otto. In vantaggio Condor Bocino che tira una stoppata micidiale, toglie i tappi Francesco Pertinari per evitare il rilassamento del suo. Però intanto è passata It's My Life con la mossa molto vispa di Roberto Vecchione che si è accorto le difficoltà del leader. Ed è passato 33 per il primo quarto di gara. It's My Life è al comando nei confronti di Condor Bocino. Poi in terza posizione Corsa del Nord in quarta Carioca Laksmi. Ancora Cloe Jet, quindi Chames Dei Greppi, ancora Cleo Wald. Muove a largo Carioca Laksmi che non perde tempo dopo 800 metri di corsa passati in un veloce 1.1. Va a largo di Condor Bocino e cerca di portarsi su It's My Life che guida il gruppo. It's My Life in vantaggio nei confronti di Condor Bocino, Carioca Laksmi allo scoperto. Poi Corsa del Nord, il primo chilometro passato in 1.15.8 con il leader che cerca di allungare per mettere in difficoltà la risalita da parte di Carioca che richiesta all'esterno, vengono tolti i tappi. Il ritmo davanti però è rovente, 1.31.1 per la categoria. Tanta roba in seconda posizione, sempre Condor Bocino a precedere Corsa del Nord. Quindi Chames Dei Greppi che si avvicina. Cala invece Carioca Laksmi in netta evidenza It's My Life che entra in retta d'arrivo con tre lunghezze nei confronti di Condor Bocino. Poi Corsa del Nord e Chames Dei Greppi. It's My Life che se ne sta andando dal resto del gruppo. It's My Life che vince facile al secondo posto. Sprinta Chames Dei Greppi che viene a precedere Corsa del Nord e Condor Bocino. Uno 16.1 raguaglio cronometrico per la vittoria di It's My Life, Roberto Vecchione e il team alert colori del signor Anton Yohan Santner. Successo netto per la figlia di Village Mystique, targata Francia, che in percorso di testa dall'11 vince nettamente nei confronti di Chames Dei Greppi e di Corsa del Nord. Successo del numero 11, It's My Life, Roberto Vecchione. Successo del numero 11, It's My Life, Roberto Vecchione. Successo del numero 11, It's Thin LeFF. Grazie a tutti